Riguardo al Cosmari, non so se qualcuno ha avuto occasione di leggere dei miei interventi pubblici di cronache maceratesi sulla stampa locale sul resto del Carlene. La scuola di rapporto a una potenza. La ringraziamo perché il fatto che questo intervento sul suo comune è stato l'unico e noi onestamente gli ne diamo atto. Grazie. Comunque, dicevo che nel mese di marzo, tra marzo e aprile, ho fatto due interventi molto lunghi su alcune scelte che avevamo fatto nel Consiglio di Amministrazione del Cosmo in relazione all'acquisto di Italia, in particolare sul problema vergognoso dei subestipendi, stipendi d'oro dei dirigenti della scuola, che sarebbero finiti a carico della collettività provinciale. La mia posizione è espressa da quelle prese di posizione pubbliche e devo dire però no? Ecco, fatta questa premessa devo soltanto un paio di aggiustamenti. Per quanto riguarda l'investimento di 14, adesso non so l'entità dell'investimento, comunque se si fa un investimento per produrre energia elettrica attraverso l'umido, io penso che ci sia un piano industriale che alla fine consente di pagare sia quell'investimento che di trarci qualche utile, solitamente dalla produzione di energia elettrica che si tragono degli utili. Quindi si tratta di capire bene quegli incentivi che paghiamo tutti in bolletta. Sì, però sono incentivi, siccome sono incentivi che lo Stato mette a disposizione di chi vuole investire, ora se c'è un consorzio pubblico, cioè di proprietà di tutti i comuni e quindi della collettività che fa un investimento di questo e se risulta rettitizio, io penso che non ci sia nulla di male se è rettitizio. Un altro punto riguarda il rinnovo del Consiglio di amministrazione. Allora, il Cosmari è andato a rinnovo del Consiglio di amministrazione per poi andare, il programma almeno è questo, che sembra che stia camminando in questa direzione, andare a una trasformazione in una società di capitali, si tratta di una SRL o una SBA, comunque sempre di proprietà pubblica di tutti i comuni, perché ha ricevuto l'affidamento di Greenhouse da parte dell'Ata. Ora lì, non è vero che non si può fare la gara, certo non la può fare ogni singolo comune, questa è una disposizione nazionale, c'è la sua che non ci stiamo soffermando. Comunque, l'Ata, composto da tutti i comuni, ha scelto unanimemente. Noi però siamo obbligati ad entrare in Ata, altrimenti eravamo commissariati. Sì, l'Ata è una cosa obbligatoria. Ha scelto, poteva scegliere due modalità di gara, ok, oppure l'affidamento in AUS. Questa provincia è l'unica che ha un gestore pubblico su tutto il territorio provinciale. Non c'è stato un comune che ha proposto di andare a gara, strada di me, certo. Io personalmente ho un'idea un po' più articolata al riguardo, però prendiamo atto che... Ora, qual è il punto importante? È quanto costa al Cosmary smaltire a quintale, come viene valutato lo smaltimento, come viene misurato dagli altri consorsi, dagli altri gestori. Quello è un punto importante. Ecco, non mi risulta che il Cosmary abbia dei prezzi eccessivamente negati, però su quello, su quello. Allora, se il Cosmary avesse dei prezzi di smaltimento dei rifiuti esorbitante, allora noi avremmo motivo molto valido di criticare la scelta dell'affidamento in AUS. Allora, si va a gara... Conosce l'era. Conosce l'era. Conosce l'era. La era. Conosce. È un 20% più alto. L'era più alto? No, Cosmary. Rispetto all'era è un 20% più alto. Eh, se io non c'ho i dati, vabbè. È anche vero, per dire Cosmary, è anche vero che mentre con era noi smaltiremo e basta, da questa parte noi dobbiamo pagare tutte le spese del consorzio. Quindi non è che noi smaltiamo e basta. Nel bilancio comunale, nelle varie spese, nelle varie voci di spese, noi abbiamo un smaltimento dei rifiuti di soldi urbani e poi abbiamo un'altra voce che è la voce con cui Porto Potenza, Civitanova Marche e gli altri 57 comuni partecipano alle spese del consorzio. È questo quello che è... Alla fine, quello che può avere... Sì, però il piano industriale, però avere un piano industriale per il 2013 che ci dice tranquillo, 2014, che dice tranquillo, adesso apriamo una bella discarica a Ciboli, lei se è di questa... ho visto che lei è ferrato. Io dico c'è il modello Vedelani, c'è il modello Capannoli... Adesso l'ultima cosa poi lascio perché effettivamente sto parlando a me troppo. Guardate, una discarica di appoggio ancora serve. Cioè, qui nelle Marche, cioè nelle Marche, come la mettiamo? Se togliamo la discarica, dove portiamo quella parte? Ne è tanta, eh? Ne è tanta. Che non riusciamo a riciclare? Allora, l'inceneritore è spento, ok, chiuso. Non c'è più. E non è che inceneriva tutto, eh? Lo smattimento, l'inciclaggio si raggiunge a certi livelli, poi c'è una parte che bisogna smattire. Dove si porta? Io lo dico io. Modello Vedelago. Il modello Vedelago, però, andate a cercare su internet, vedete? Vedete che cos'è? Con il modello Vedelago, all'80% di... mi sentono? All'80% di... di riciclaggio, il 20% viene portato in questo macchinario, che è un macchinario che lavora a freddo tutti questi prodotti. Viene fuori un composto. Questo composto poi viene lavorato per farci tavolini, serie, mattoni, ci si può fare tutto quello che volete. è perfetto, non è assolutamente inquinante, niente. Alla fine di questo processo, il 2% del 20%, il 2% va in discarica. E noi nel 2014 insistiamo a dire, eh no, bisogna aprire una bella discarica. Cioè, bisogna essere... voglio dire, allora, no, ma... Tutti i trombatti devono andare tutti in là. No, il discorso è che abbiamo, cioè, c'è un progresso che va avanti, ci sono nuovi sistemi per lavorare i rifiuti. I rifiuti non sono più chiamati rifiuti, sono chiamati materiali. Cazzarora. Voi, ad esempio, non lo sapete, adesso vediamo anche questa, voi c'avete un'isola ecologica, un centro di percota. Bene. Civitanova c'era lo stesso, quindi facendo le nuove popolazioni, vedete voi i conti che scappa fuori. A Civitanova che noi diamo tutto quel riciclato lì, che è ben messo il legno, il ferro, il fogliame, tutto quello lì, viene mandato alla Cosmary. Ma la Cosmary non è che ci paga, anzi, vuole che qualcuno paghi per il trasporto. E vabbè, pagiamo il trasporto. Poi la Cosmary cosa dice? Adesso, con questa roba che tu mi hai dato riciclata, io te riconosco il 20%, ok? E ci dà ogni anno 80-100 mila euro. Domanda mia, ma se io riesco a gestirmi quell'isola ecologica da solo, vuol dire che c'ho a fine anno 500 mila euro. Perché non posso farlo? Cioè, perché io devo dare una roba? Perché io devo dare una roba alla Cosmary quando, cioè, semplicemente basterebbe che l'ufficio tecnico alza la cornetta, prova le rite, chi che serve? Il legno, il ferro, il fogliame e questo e quest'altro. Io questo è quello che contesto. Anche perché ho sentito parlare solo di costi e non di guadagni che stanno dietro alla differenziata. Scusa. Fabio, quando ha chiuso il bilancio del Cosmary l'anno scorso? Meno, meno, meno. Davvero ci stanno stipendi.